adesso incominciamo ad andare all'indietro e mentre andiamo all'indietro andiamo alla prima volta qui abbia avuto questa emozione Capita la mia camera, la mia camera è la prima volta che è in Cristo C'è prima la mia camera, c'è la camera Passi, passi, passi E' la sua iPhone, la mia camera è la sua distanza Ci sta ti sento ti sento che c'è la mia camera Guarda la camera Ci vedete cosa sta succedendo alla porta Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.